Un momento di colera può distruggere tante cose, si perde il controllo e non si valuta ciò che è veramente importante, che si può rovinare il rapporto con un fratello. La mitezza è conquista di tante cose, la mitezza è capace di vincere il cuore, salvare le amicizie e tanto altro perché le persone si addirano ma poi si calmano, si ripensano e tornano sui loro passi e così si può ricostruire con la mitezza.